dalla sede per la svizzera italiana di biasca della fondazione svizzera bibliomedia vi parlo di un romanzo appena tradotto in italiano proprio fresco fresco da inaudi e anche un romanzo fresco proprio l'aggettivo ci sta si intitola i viaggi di daniela ascher ne autrice deborah levi berthorah editore e inaudi deborah levi berthorah è di origini ebraico russe insegna letteratura comparata all'eccole nationale superiore di parigi ed è traduttrice del russo e qui racconta una storia delicata che ha una sua profondità anche drammatica ma anche una sua leggerezza vitalistica una giovane ragazza studentessa di archeologia arriva dalla provincia francese a parigi abita nelle stanze di un appartamento che possiede un suo prozio il quale sempre in giro per il mondo quindi lascia delle stanze lui in giro per il mondo e le manda delle cartoline di qua e di là da tutte le parti del globo cartoline anche abbastanza strane la ragazza poi incontra un giovanotto c'è un innamoramento poi questo prozio ritorna e lei scopre che è molto incuriosita dalla vita di questo anziano prozio perché ha dei segreti a qualcosa di non di non totalmente spiegato sì la sua infanzia appartiene a questo giro familiare ma chissà le sue radici e quindi ci sono dei misteri anche perché lui manda queste cartoline strane poi si sovrappone la figura di uno scrittore di libri per ragazzi ma che piacciono anche agli adulti libri d'avventura uno pseudonimo e il ragazzo di cui lei è innamorata ama questo scrittore ma chi è questo scrittore in verità insomma è una detective story dell'anima perché la ragazza vuole capire cosa c'è dietro la vita l'infanzia e di suo zio e scopre e scopre che c'è stato un passato in francia agli anni 40 la tragedia degli ebrei francesi perseguitati anche molti deportati per i campi di sterminio quindi c'è questa dolente memoria del passato c'è questa figura del prozio che forse la rappresenta e c'è il presente lieve la grazia di questa ragazza archeologa che scava in due sensi scava intanto che sta studiando archeologia ma scava anche nell'archeologia della memoria del passato della sua famiglia e di questa enigmatica misteriosa generosa ma anche forse sfuggente figura del prozio un romanzo detto con prosa fresca che ha come dire ha dentro tutto il presente vitalistico e la il dolente accento della memoria del passato c'è la grazia del presente e c'è il morso della memoria i viaggi di daniel asher di deborah levi berterà edito da inaudi una bella scoperta nella narrativa francese